Ci troviamo all'interno dei musei civici, sono ospitati a Palazzo Mosca dal 1936 e in particolare siamo all'interno della sala dedicata alle arti decorative. Oggi vi vorrei parlare di un particolare genere, che è quello del vasellame amatorio, che si sviluppa a partire dalla fine del 400 e per tutto il 500. Durante il fidanzamento vero e proprio venivano offerte queste coppe amatorie o definite belle donne. Sono delle coppe in cui appunto era presentato il ritratto della donna amata, venivano offerte appunto come dono di fidanzamento, scandivano questa fase. Ritratto della donna amata che è un ritratto non realistico, ma è un ritratto idealizzato, stereotipato, anche perché i ceramissi utilizzavano sempre lo stesso modello e cambiando alcuni particolari descrittivi o dell'abbigliamento. È sempre ritratta questa figura femminile di profilo o dei tre quarti e attorniata da un cartiglio più o meno svolazzante, in cui è sempre riportato il nome della donna amata più l'aggettivo bella. Erano ritratti che dovevano esaltare non solo le qualità fisiche, la bellezza esteriore della donna amata, ma anche le virtù morali. Dovevano essere un ritratto della perfetta donna del Rinascimento. A volte i nomi, Camilla, Faustina, Lucrezia, rimandano ai nomi dell'antichità classica, dell'antichità romana, proprio per collegare queste dame alle virtù rappresentate da questi personaggi dell'antichità e del mito classico. La prima coppa amatoria conservata nella collezione Mosch importante è la Faustina Bella, importante per il primo esemplare datato, 1522, di questa tipologia decorativa. e anche qui troviamo il ritratto di questa dama che è abbigliata con uno scudo, dove troviamo un cherubino alato e alla base, nelle veste, l'immagine di un delfino con un nastro. Luca Luca normale Grazie a tutti.